Salve, buonasera, benvenuti al primo webinar sul tema del ciclo della strategia acquisizione e gestione delle iniziative ICT della PIA. I webinar saranno tre, sono organizzati da Agid e da Formez nell'ambito del progetto Informazione e formazione per la transizione digitale della PIA che ricade nell'ambito del programma Italia Login, la casa del cittadino e come sapete fa parte di una serie di iniziative che sono prevalentemente dedicate ad approfondire i temi su cui Agid ha competenza. Vedo che state entrando, anche oggi vi siete scritti in maniera numerosa e quindi state entrando a questo webinar. Io vi ricordo che i webinar sono tre, trovate tre pagine dedicate sul nostro sistema Eventi PA. La pagina da cui vi siete iscritti conterrà dopo il webinar la registrazione che noi abbiamo già avviato e i materiali, le slide che presenteranno i nostri esperti oggi pomeriggio. Vi dico anche che potete porre delle domande in chat e quindi i nostri esperti troveranno modo di rispondere sia oggi ma anche nei prossimi webinar, perché appunto sono gli esperti anche dei prossimi webinar e vi daranno risposte anche nell'ambito dei due webinar successivi di cui vedete già i temi nella pagina di Eventi PA. I prossimi, come sapete, sono il 21 marzo e il 28 marzo. Vi lascio la parola a Ludovico Anniballi di Agid, nostro dirigente ormai diciamo storico che presenta i webinar di Agid e che ci introduce ai temi. Ludovico, se provi a parlare... Eccomi qui, buonasera a tutti, mi sentite? Sì, allora io mi disattivo e ti lascio la parola. Grazie mille Patrizia. Allora, buongiorno, buonasera a tutti, sono Ludovico Anniballi e sono il responsabile dell'area indirizzo e governance della pubblica amministrazione di Agid. Oggi con me saranno come relatori di questo webinar e anche Francesco Grasso e Fabio Massimi del Servizio Pareri. Allora, il webinar di oggi è, come diceva Patrizia prima, il primo modulo di un corso formativo di tre webinar che si terranno i restanti il 21 e il 28 marzo e vi raccomandiamo per come è stato strutturato il webinar di seguirlo, di seguire tutto il ciclo perché riusciamo così a dare evidenza di tutte le peculiarità del Servizio Pareri, in particolare della nuova circolare uscita lo scorso anno. Quindi oggi farò una breve introduzione io delle attività dell'area, in particolare del Servizio Pareri e dopo di interverrà Francesco Grasso per i pareri di congruità tecnico-economica come opportunità per le PAC e successivamente Fabio Massimi per quanto riguarda le indicazioni operative per la richiesta dei pareri. Allora, l'area indirizzo e governance della pubblica amministrazione in poche parole è l'area che indirizza e coordina e supporta le pubbliche amministrazioni nell'utilizzo dell'ICT. Diciamo che seguiamo le pubbliche amministrazioni in tutto il percorso, da quello che è l'attività di pianificazione, di definizione della strategia e pianificazione e individuazione degli obiettivi che le pubbliche amministrazioni devono perseguire, il servizio gare strategiche che si occupa in collaborazione con le centrali di committenza di definire appunto le gare strategiche, gli strumenti d'acquisto più idonei per supportare le amministrazioni nell'acquisto dei servizi ai siti necessari. Il servizio pareri che entra, passo alla successiva slide che rende anche un po' l'idea del ciclo dell'attività fatta all'interno dell'area e segue la parte di valutazione, quindi come spiegheranno meglio i colleghi, esamina nella fase protromica all'avvio della gara la documentazione e esprime appunto un parere di congruità tecnico-economica strategica, poi vedremo successivamente in dettaglio insomma qual è il lavoro che viene svolto e successivamente interviene il servizio monitoraggio dei grandi contratti S&P che interviene appunto nella fase di esecuzione e verifica dell'attività e di gestione del contratto. Quindi i pareri sono veramente una funzione storica dell'agenzia, veniva già svolta nelle precedenti strutture e quindi in AIPA, ACNIPA e DGPA e sono stati sempre emessi senza momenti di discontinuità. Diciamo che nel corso degli anni si è creata una base di conoscenza veramente importante per l'analisi e lo studio dei contratti ai siti pubblici e una base che ovviamente ci serve e ci aiuta sia nella definizione dei successivi pareri ma in tante altre attività dell'area e dell'agenzia. Ovviamente nel corso del tempo sono stati regolamentati da diverse norme però oggi sono regolamentate dal CAD in particolare dall'articolo 14 bis che definisce un po' tutte le funzioni dell'agenzia per l'Italia digitale e in particolare al comma 2 le lettere F e G. Quindi dove abbiamo sia i pareri ovviamente sono sempre obbligatori ma non vincolanti e quelli vincolanti. Quindi sull'argomento dei pareri è stata pubblicata recentemente come dicevo prima una nuova circolare. Nuova circolare che succede alle precedenti circolari e l'ultima circolare di cui vi parleremo in questo ciclo di webinar è la circolare numero 2 del 2022 che sostituisce la precedente circolare la 55 del 13 febbraio 2009 e sono passati parecchi anni, 13 anni e durante questi anni i pareri proprio a livello di struttura insomma sotto diversi aspetti sono evoluti. Quindi oggi nella sessione di oggi illustriremo le novità, le finalità dei pareri e forniamo le indicazioni pratiche, proprio pragmatiche per richiederli. Nel secondo webinar di questo ciclo ci focalizzeremo invece sui pareri non vincolanti, quindi quelli della lettera F e nell'ultimo sui pareri vincolanti, quelli della lettera G. Volevamo ribadire se non si è capito che è opportuno seguire il ciclo nella sua interezza per avere una visione completa dell'attività di questo servizio. Quindi io adesso lascio la parola al collega Francesco Grasso, responsabile del servizio dei pareri all'interno dell'area. Vi ringrazio tutti, buon webinar e buon lavoro. Grazie a tutti. Grazie Vodovico, mi sentite? Spero di sì. Buon pomeriggio a tutti, vi vedo molto numerosi e speriamo di non annoiarvi di dirvi cose soprattutto utili per il vostro lavoro. Io mi sono Francesco Grasso, sono responsabile di servizio dei pareri e lavoro in questa struttura già tra le precedenti incarnazioni, diciamo così, dal lontanissimo 2001, quando ancora ci chiamavo AIPA e successivamente quando eravamo CNIPA e DGPA. Mi sono sempre occupato dei pareri e ho seguito l'evoluzione di cui parlava prima il collega. Quindi oggi sono un po' a raccontarvi cosa c'è di nuovo e poi soprattutto a cosa servono i pareri e quali opportunità possono portare alle pubbliche amministrazioni che ne ricevono, ma non solo a loro, a tutte le pubbliche amministrazioni in diverse vesti, quindi sia quelle che portano avanti l'iniziativa oggetto, ma anche semplicemente come amministrazioni interessate ai temi e alle tipologie di procurament del delitti pubblico. Allora, la prima cosa, io partirei con un sondaggio. Siccome vi vedo molto numerosi e vedo anche che molti di voi vengono dalla pubblica amministrazione locale, io vorrei capire quanti di voi conoscono i pareri, quanti, già vedo che i primi mi rispondono nessuna esperienza con i pareri dell'Agid e questo mi serve anche per riuscire a tarare la mia presentazione, a spiegare un po' più di cose che se no dovrei dare per scontate, ma magari così non è. Quindi vi pregherei di rispondere ora a questo sondaggio. Rileggo il testo. Nell'ambito della vostra attività, quante volte siete stati coinvolti nella richiesta di pareri di comunità tecnico-economiche di Agid. Già vedo che la stragrande maggioranza dei rispondenti non ha nessuna esperienza con i pareri. Va beh, allora temo che sarà necessario dirvi, diciamo, dati anche delle definizioni più o meno di base. Aspettiamo ancora qualche secondo se magari qualcuno deve ancora rispondere, ma già vedo che c'è una vittoria schiacciante, una maggioranza bulgara che dice di non avere nessuna esperienza con i pareri di Agid e devo dire che me l'aspettavo vista la platea, perché molti di voi vengono dalla pubblica amministrazione locale, quindi province, regioni e quant'altro, comuni, università e quant'altro, che normalmente non chiedono parere a gente, come vedremo durante nel corso delle slide, però anche a loro potrebbe essere di utilità sapere cosa facciamo, cosa diciamo e di quello di cui ci occupiamo, insomma. Va beh, direi che possiamo interrompere la raccolta di voti e andare avanti. Allora, a questo punto si tratta, vi devo leggere la norma purtroppo. Allora, come ha detto il collega, il codice dell'amministrazione digitale all'articolo 14 dice cosa fa Agid. In particolare il comma 2 di questo articolo alla lettera F dice che Agid rilascia pareri tecnici, quindi non giuridici, pareri tecnici, non vincolanti, ora vi spiego cosa vuol dire, sui contratti e sugli accordi quadro, leggete Acusta per accordo quadro, da parte delle pubbliche amministrazioni centrali. Le pubbliche amministrazioni centrali, quando fanno un tratto oppure un accordo quadro per forniture ICT, oltre una certa soglia, sono tenute obbligatoriamente a chiedere parere a noi. Il parere della lettera F è non vincolante. Cosa significa? Agid valuta l'iniziativa in esame, dando alcune indicazioni che vedremo nelle prossime slide di tipo tecnico. quindi qualche modifica, piuttosto che focalizzare meglio l'iniziativa su alcuni aspetti tecnici. Il parere non è vincolante, vale a dire che l'amministrazione può decidere di seguire o meno le indicazioni di Agid. Anche se non segue l'amministrazione, le raccomandazioni di Agid può andare avanti nella sua iniziativa. Allo stesso articolo, la lettera G, invece, prevede che Agid possa rilasciare pareri tecnici, questa volta vincolanti. Quindi le indicazioni che Agid fornisce devono obbligatoriamente essere recepite da richiedente. e questa volta però le indirizza questi pareri vincolanti a CONSIP e agli altri soggetti aggregatori per i beni e i servizi CIT definiti di carattere strategico nel piano trinnale. Quindi questa è una fattispecie di parere che vedremo più avanti nel corso di questa presentazione che ha come oggetto di valutazione e di indagini le care strategiche essenzialmente. E quindi non tutte le amministrazioni possono richiederle, ma solo quelle che fanno le care strategiche, tipicamente CONSIP e i soggetti aggregatori. L'oggetto del parere è verificare che iniziativa dell'amministrazione soddisfi di principi di efficacia, economicità, ottimizzazione della spesa, usi infrastrutture condivise, usi standard, ridurre costi, migliori servizi e soprattutto che sia coerente con il piano trinnale. Come l'ha spiegato prima il collega Aniballi, è un ciclo. Nel piano trinnale si definisce la strategia che le amministrazioni pubbliche devono seguire per le loro iniziative di progettazione e realizzazione di servizi digitali. E qui verifichiamo con i pareri che effettivamente siano coerenti. Vi do un po' di numeri e vi servo per capire di cosa stiamo parlando. Ogni anno Agit emette circa una trentina di pareri, il numero può variare, diciamo raramente supera i 40, l'ora di grandezza è quello. Sono pareri resi su contratti molto ingenti, molto importanti, che superano una certa soglia. La soglia minima, oltre la quale è obbligatorio chiedere il parere, è di 2 milioni di euro, IVA inclusa sulle gare, mentre sulle procedure negoziate è 1 milione di euro. Se noi sommiamo tutti gli importi di tutti i contratti su cui annualmente rendiamo un parere, superiamo abbondantemente il miliardo di euro. L'anno scorso ci siamo attestati, se ricordo bene, sui 6-7 miliardi di euro. Quindi si tratta di qualcosa di estremamente rilevante, ed è rilevante anche dal punto di vista delle informazioni che noi possiamo ricavare da questa mole di contratti. Per dirne una, possiamo vedere ad esempio quale strumento le pubbliche amministrazioni centrali prediligono per il loro procuramento, quindi per acquisire bene i servizi sul mercato. Vi ho mostrato una delle statistiche che deriviamo, per esempio sui pareri che noi rendiamo, quanti derivano da gare, quanti da negoziazioni dirette e quanti da convenzioni. Per convenzioni si intendono, spero che sia nota la cosa, degli accordi specifici che legano per esempio un'amministrazione con la sua società informatica in house. La tipica convenzione di esempio è quella che lega il MEF, il Ministero dell'Economia e Finanza con il SUGGEI. Altri tipi di convenzioni per esempio riguardano, non so, l'Istituto Poligrafico, il Zeccarello Stato, esistono convenzioni tra alcune università cineca, queste sono le tipiche, i tipici strumenti contrattuali che noi vediamo. Allora, a chi sono rivolti i pareri? Agit emette il parere definito dalla lettera F dell'articolo 18 di pista alle pubbliche amministrazioni centrali, le PAC. Non rende pareri alle palla, alle amministrazioni locali. Spero che questo non deluda la maggior parte di voi, appunto, che viene dall'amministrazione locali. Noi normalmente, e uso la parola normalmente perché a titolo di eccezione qualche volta in realtà abbiamo reso pareri anche ad alcune amministrazioni locali, poi vi dirò in quali frattispecie. Mentre, come dicevo prima, i pareri vincolanti, quelli previsti alla lettera G del medesimo articolo del CAD, sono resi a consi per i soggetti aggregatori. Vedete sbarato anche la freccia dei fornitori? Io non so se credo alcuni di voi sia anche qualche tipo in società. I pareri non vengono mai resi a società, tra l'appunto quando vengono coinvolte le in-house, però quella è una cosa particolare. E tuttavia anche i fornitori del compatto ICT possono avere interesse, e normalmente lo hanno, nelle indicazioni che noi forniamo all'interno dei pareri, perché di fatto noi analizziamo il mercato delle ICT e quindi diamo anche una valutazione di, non dico dell'operato, ma dell'offerta commerciale dei fornitori di questo settore, di questo segmento. Quello che molti non sanno, e che vorrei sottolineare perché mi capita spesso di scoprire, appunto non è noto, è che noi ogni anno i pareri che rendiamo, quindi i famosi 30-40 pareri annuali, li mandiamo all'ANAC. C'è un flusso, anche questo regolato dal codice dell'amministrazione digitale, che dice che ICT i pareri che rende vengono poi inviati all'ANAC, che ne li usa per ovviamente le sue attività, per derivarle analisi ancora una volta di contratti, ma anche per alcune indagini c'è capitato di vedere che ha citato alcuni dei nostri pareri, alcuni indagini che poi ha svolto nei riguardi di progetti che riguardavano l'amministrazione pubblica e che avevano un impatto anche sull'informatica. Allora, che cos'è il parere? Il parere ovviamente è un atto, un documento, vi mostro qui in blu vedete la struttura, lo scheletro del parere. È tipicamente fatto di tre sezioni, un premesso dove noi descriviamo brevemente l'iniziativa su cui rendiamo il parere, quindi l'acquisizione tipicamente del contratto che ci viene inviato in valutazione e noi in questa parte del parere riportiamo i punti essenziali. Poi c'è una seconda parte che è definita considerato in cui Agit esprime le sue valutazioni che riguardano, come dicevo prima, la coerenza con l'indicazione del piano triennale piuttosto che l'indicazione di ordine tecnico, piuttosto che l'indicazione di ordine economico, quindi sulla spesa e sugli importi, ma anche sui livelli di servizio contrattuali, sulle varie clausole del contratto in esame. La terza parte del parere si chiama in gergo dispositivo, noi lo chiamiamo PQM, quindi in gergo anche abbastanza la sentenza giuridica se vogliamo, per questi motivi, dove elenchiamo le condizioni che Agit pone all'amministrazione richiedente affinché il parere possa essere considerato favorevole. Mi abbassi un attimo di livello, i pareri possono essere favorevoli, nel senso Agit ha esaminato un'iniziativa, un contratto pubblico e ne ha un'impressione positiva e dice ok tutto bene, il parere è favorevole. Possono essere favorevoli condizionati, nel senso Agit ha esaminato questo contratto, questa iniziativa. In generale è comunque un'iniziativa lodevole, fatta bene ci sono alcune condizioni che chiediamo all'amministrazione. Vedremo dopo di che ordine sono queste condizioni affinché il parere possa essere considerato semaforo verde. Un parere potrebbe anche essere negativo. Noi vediamo che l'amministrazione ha fatto un'iniziativa, un progetto, un'acquisizione che è completamente fuori dalla strategia, fuori dalla coerenza con le nostre indicazioni che noi bocciamo completamente l'iniziativa. Agit boccia l'iniziativa ma come ho detto prima i pareri non sono vincolanti, quindi in realtà questo non vuol dire che l'amministrazione si fermi. L'amministrazione a suo giudizio, a sua responsabilità può anche decidere di andare avanti. Ciò non toglie che storicamente le amministrazioni quasi sempre seguono le indicazioni di Agit perché ovviamente Agit ha una certa autorevolezza, se dice qualcosa resterebbe una macchia sull'iniziativa anche in prospettiva di problemi futuri che possono sempre capitare. I pareri possono anche essere sospensivi, nel senso che nel corso della lavorazione dei pareri, noi le chiamiamo l'istruttoria, la fase istruttoria col gergo anche qui giuridico, noi ci accorgiamo che dobbiamo approfondire un tema, allora sospendiamo l'emissione del parere, ci mettiamo a lavorare con l'amministrazione richiedente e cerchiamo un po' di capire cosa succede. Anche questo è una forma di parere che in certe circostanze può rallentare ma altre volte può essere di aiuto all'amministrazione perché l'amministrazione può recepirne anche un valore aggiunto e quindi guadagnarci anche nell'efficacia della sua iniziativa. I pareri ad Agit ovviamente sono molto importanti, hanno una grande unità che si traduce essenzialmente sul fatto che Agit grazie a questo strumento disponga di una visibilità sulle iniziative informate della pubblica amministrazione, ripeto in particolare la centrale, a volte anche di quella locale, che non è uguale, cioè attraverso i pareri noi vediamo, possiamo fare analisi di vario tipo, quale soluzione tecnica viene prediletta da alcune amministrazioni, quali prodotti in quel momento sono più richiesti piuttosto che quale modello di sviluppo va avanti, questo tipo di visibilità è utilissima e ne deriva, ne posso beneficiare non solo Agit ma come vedremo anche nei nostri controparti dell'amministrazione. Il parere serve essenzialmente come dicevo prima, per orientare i progetti pubblici verso gli obiettivi che sono nel piano rinnale, quindi l'interoperabilità, l'operazione applicativa piuttosto che l'obiettivo del riuso, sicurezza, lati aperti e quant'altro. Orientare è un termine ovviamente forse pretenzioso, diciamo che noi diamo indicazione all'amministrazione affinché le amministrazioni, le recepiscono e vanno maggiormente in coerenza. Noi, a parte qualche eccezione che vedremo dopo, in realtà non siamo imperativi, noi siamo di aiuto e supporto alle amministrazioni, cerchiamo ovviamente di andare incontro alle loro esigenze e di favorirli. Un altro valore aggiunto del parere è che si riesce in qualche maniera a controllare la spesa ICT, quindi badando appunto a che gli importi non vadano oltre il principio di economicità e siamo comunque coerenti con le importanze e quindi con i benefici che vengono ottenuti. Il parere può servire anche per veicolare buone prassi, per evidenziare criticità e quindi servono come la metafora e il megafono, cioè noi normalmente Agit diffonde linee guida, però i pareri a volte capita che siano letti quanto e anche più delle linee guida. E poi i pareri in generale, come parlava prima il collega nel corso degli anni, li abbiamo emessi più di un migliaio da quando nasce Agit, da quando nasce AIPA e quindi costituiscono una sorta di corpus quasi giuridico, un massimario dell'informatica pubblica a cui molti soggetti, e qui ritorno alla strada di precedente, anche privati, anche società possono fare riferimento. In questo senso, a questo massimario, possono essere interessate anche le pubbliche amministrazioni locali che quindi diventano in qualche maniera beneficiari del parere anche se non richiedenti. Per quello che riguarda invece le pubbliche amministrazioni hanno una serie di benefici che, però forse è andata via uno slide, è stato uno slide, ecco qua. Perché i pareri sono utili alle amministrazioni? Allora, bisogna innanzitutto sfatare dei falsi miti. Viene detto spesso che i pareri vengono chiesti perché bisogna farlo, c'è la norma, quindi sono degli allempimenti normativi. Questo è vero, senza altro, d'altra parte le amministrazioni lavorano per arrempimenti, ci mancherebbe. Ma non sono arrempimenti normativi vuoti, il parere deve essere visto come un'opportunità. Idem, molti dicono, i pareri rallentano il processo di acquisizione, il procuramento di ICT, che già è complicativissimo, ci sono milioni di leggi, laccioli e casini da seguire e il parere ci blocca ancora di più, ci rallenta ancora di più. In realtà non è vero, perché, ok, la norma dà un tempo massimo, mentre qui Agit, a fronte di una richiesta, rende un parere e sono 45 giorni solari. È anche vero, oltre a questi 45 giorni solari, scatta, si può andare avanti in silenzio e senso, come in tutti i procedimenti pubblici, ma è anche vero che questi 45 giorni normalmente, gran parte, vengono spesi per ottenere le informazioni minime che servono per valutare l'iniziativa, quindi quando una richiesta di parere è efficace e spiega bene, quindi dà tutte le informazioni che ad Agit servono, certamente possiamo comprimere i tempi e anche questo è uno dei motivi e degli obiettivi di questo corso. Vedremo, nelle prossime slide, daremo indicazioni pratiche su come si possano fare delle richieste di parere utili anche noi per comprimere i tempi. Ci sarà proprio un modo successivo che dà, si chiama consigli pratici, per dare una richiesta, fare una richiesta di parere che c'è utile e non dà problemi. Ecco, questa è la slide di prima. Allora, uno dei vantaggi che le pubbliche amministrazioni possono già, per definizione, ottenere dai pareri e avere dei contratti con clausole più efficaci, perché noi andiamo a leggerci i contratti e, data la nostra esperienza, Agit sa già che alcune clausole scritte in una determinata maniera per esperienze passate sa già che non funzionano, oppure che bisogna più focalizzarle. Tipicamente vediamo un contratto che è incoerente oppure ha delle lacune, capila, ne vediamo di tutti i colori sinceramente e noi lo riusciamo qui poi a ottimizzare questa clausola, mettendola in questa forma e così via. Questo rende ovviamente il contratto più blindato, quindi a fronte di eventuali problematiche, anche di contenziosi e lo rende più focalizzato sull'obiettivo che si vuole ottenere. E per esempio, ne faccio solo un esempio, in molti contratti non è chiaro chi fa che cosa e quindi una definizione all'interno dell'articolato dei ruoli, delle responsabilità eventualmente con formalismi tipo le matrici RACI e sempre raccomandando l'Agit. Idem i livelli di servizio e le penali, noi le vediamo sempre, le esaminiamo e ci rendiamo conto se sono coerenti con il contesto e anche adeguate all'importanza e alla rilevanza del contratto, oppure no, siamo proprio fuori in un verso o nell'altro. Noi suggeriamo molto spesso l'uso di standard, di lessico omogeneo, di formalismi. Anche questo non sono cose burocratiche, sono cose che abbiamo visto nel corso degli anni che sono utili, funzionano e quindi le raccomandiamo. Peraltro non la posso dire che il parere non è una valutazione ferma nel tempo. Noi molto spesso diamo pareri su contratti che in realtà afferiscono a un unico progetto che va avanti nel corso del tempo. Tipicamente un progetto pubblico va avanti per 5, 6, 7 anni, ha diversi contratti con diversi fornitori, oppure fa una gara alla successiva. Attraverso quello che noi diciamo nel primo parere possiamo veicolare l'iniziativa verso un percorso più efficace. Il secondo parere serve per aggiustare il tiro e così via. Quindi anche il parere è qualcosa che in realtà si raffina con il passare del tempo. Nel caso di gare, il parere quello che fa è esaminare durante l'istruttore, noi ci legiamo con attenzione al capitolo tecnico, a volte disciplinare per quello che concerna sempre gli aspetti tecnici. Ricordiamo che il parere agito è un parere di comunità tecnico-economica, non è un parere giuridico-amministrativo. Possiamo fare una valutazione dell'efficacia dei requisiti, della descrizione, per esempio sui criteri di assenzione del punteggio tecnico piuttosto che sull'apertura della gara o anche sulla definizione della base d'asta. In molte occasioni vi posso assicurare, ci sono casi che poi più avanti nel seminario possiamo anche illustrare come casi di esempio, in cui modificando alcune disposizioni, alcune previsioni di una gara sottoesame l'abbiamo molto migliorata, abbiamo impedito che succedessero cose. Questo è molto importante, chiunque di voi abbia seguito una gara pubblica, anche recentemente, mi riferisco agli articoli di ieri e di stamattina su ricorso al TAR anche per il PSN, sapete che il mercato dell'informatica pubblica è un mercato molto aspro, caratterizzato da grandissima litigiosità, per cui ricorsi al TAR su qualsiasi gara ve li beccate sempre. Avere un capitolato blindato vi consente di passare attraverso le forche caudine dei vari TAR è un grosso vantaggio. Il parere vi serve proprio per rendere il vostro parere più robusto da questo tipo di attacchi. Un altro punto d'attenzione per i pareri è i modelli di remunerazione. Ho detto prima, noi esaminiamo i progetti delle amministrazioni attraverso i contratti che l'amministrazione stipula con i fornitori, perché quasi tutti i progetti informatici si sa, lo sapete anche voi, le amministrazioni non li fanno in casa, li esternalizzano, li affidano o al mercato tramite gare o se hanno dei fornitori eccetera, comunque sempre convenzioni, c'è sempre uno strumento. In questo strumento noi andiamo a vedere in questo contratto tutto esame qual è il modello di remunerazione dei beni e servizi e indichiamo quale, un modello magari in passato abbiamo visto che è poco efficace o piuttosto ha delle controindicazioni. Suggeriamo di modificarlo, che ne so, per dire pagare un servizio a caro non è piuttosto che a corpo, piuttosto che a consumo, oppure per licenze software sappiamo che esiste la possibilità di chiedere a un fornitore un licensing di tipo enterprise, piuttosto che legato non alla potenza laborativa ma al numero di utenti. Questo tipo di indicazioni possono essere utili assolutamente sia per risparmiare sul momento ma anche in prospettiva futura di risparmiare sugli importi complessivi in un modello di total cost and ownership che molto spesso le amministrazioni non hanno presenti. Faremo anche degli esempi più avanti in cui un'amministrazione ipotizzava di acquistare un software con un determinato modello che all'inizio gli sembrava avere uno sconto favoloso. Peccato che poi li stangavano con la manutenzione. Questa cosa è ovviamente, noi ne abbiamo molta esperienza, molte contezze e cerchiamo di raccontarle, di istruire tra virgolette anche l'amministrazione a non cadere in queste criticità che purtroppo sono possibili. Nelle negoziazioni dirette noi a volte diamo anche delle, all'interno dei parelli, dei consigli e delle indicazioni di tipo pratico su come rafforzare una posizione negoziale. Ciò, attenzione, non vuol dire che noi ci sediamo al tavolo della trattativa tra l'amministrazione e il fornitore di turno. Questo Agile non lo può fare ma può dare indicazioni o informazioni, vogliamo usare la parola intelligence, per far sì che l'amministrazione sappia cosa va in conto, cosa può chiedere e cosa è meglio non chiedere. Nei parelli noi spesso, una volta che vediamo un'iniziativa e ne incogliamo i principi essenziali, consigliamo all'amministrazione di dire, ma per caso ti sei letta la linea guida che noi tre anni fa abbiamo reso proprio su questo aspetto, magari può essere utile e ne abbiamo fatte veramente tante. Come dicevo prima, le mie guida ne facciamo talmente tante che poi magari sono tutte scaricabili dal sito dell'Agile, ma magari al singolo funzionario pubblico che bandisce una gara qualcosa sfugge. Quindi mi pare che serve anche ricordare, per esempio, leggetevi la guida su, che ne so, il design dei servizi, l'uso applicativo, le mediche di qualità, la sicurezza, ce ne sono tantissime. Raccomandiamo, come ho detto prima, la coerenza con il piano trennale, anche su quali sono le eventuali infrastrutture materiali che devono essere tenute conto nelle iniziative sotto esame, che ne so, l'uso di ANPR, piuttosto che il sistema di gateway, piuttosto che i vari sistemi di integrazione, rispito e quant'altro, per vedere se le amministrazioni ne fanno corretto uso o per indirizzarli a un uso più efficace, se così non è. Sempre con l'obiettivo di aiutare l'amministrazione. Quindi è importante tenere presente che noi non è che diamo un voto buono o cattivo, siamo i professori di turno, noi siamo, se vogliamo, una sorta di, vogliamo dire, consulenti pubblici. Raccomandiamo alle amministrazioni di essere ovviamente coerenti con quello che diciamo su altri tavoli della strategia e poi diamo anche suggerimenti sulla base della nostra esperienza. Per quello che riguarda la procedura di acquisto, quando un'amministrazione sceglie se procedere tramite gara petta, procedura chiusa piuttosto che negoziata, ovviamente quella è una responsabilità che resta in capo all'amministrazione perché il parere di agito è un parere di tipo tecnico. Ciò non toglie che, anche se non ci esprimiamo sulla legittimità amministrativa del procedimento, possiamo dare delle indicazioni tecniche per dire che ne so, qui vediamo che tu hai diviso la tua gara in tot lotti sulla base di questo criterio, ti faccio presente che in passato una gara di questo tipo divisa così ha dato queste criticità. Ti suggeriamo di farla diversamente, oppure che ne so, questa altra gara non è divisa in lotti, ti conviene dividerla per questo o quest'altro motivo. Un'altra cosa che facciamo molto spesso è rendere la documentazione di gara più chiara per evitare il rischio di contestazioni dopo e di domande in serie di partecipazione alla gara. Che ne so, nella scelta dei prodotti software, come sapete l'articolo 68 del CAD prevede che l'amministrazione debba fare una cosiddetta valutazione comparativa tra le varie alternative sul mercato, quindi prodotti proprietari, piuttosto che uno sviluppo ad hoc, prodotti open source, cloud e quant'altro. Dove le pareri possiamo anche verificare e in genere lo chiediamo. Se nell'oggetto della fornitura c'è un prodotto software, mi dite come avete fatto questa valutazione comparativa, me la fate vedere, volete in qualche maniera che vi diciamo cosa ne pensiamo, eccetera. Una cosa importante a dire, questa è un'ultima novità, spero che qualcuno di voi conosca, abbia visto l'articolo 18 bis del CAD. L'articolo 18 bis del CAD è stato da poco modificato e prevede che Agit possa controllare il rispetto delle disposizioni da parte dell'amministrazione, sia del codice dell'amministrazione che del piano primare e anche la possibilità di applicare sanzioni Agit in questi casi. Ora, il parere non applica mai sanzioni, ma potrebbe essere diciamo un primo avviso bonario. Quindi possiamo dire, caro amministrazione, vedi che tu stai violando questo e quest'altro. State attenta, state accorta che qua ti potremmo anche erogare sanzioni. Il parere è utile evidentemente anche per evitare successive azioni un po' più pesanti, quindi mi permetto di dire che potrebbe essere tenuto l'occhio anche a questo aspetto. La coerenza del piano triennale, l'ho già detto, perché noi siamo nel famoso ciclo dell'inizio di Repubblica. E viene verificata in che senso la coerenza. Per esempio il piano triennale ha al suo interno una pianificazione. Noi vediamo che le iniziative dell'amministrazione di cui chiediamo anche un ganto, comunque una tempistica, sia coerente con la pianificazione del piano triennale. Verifichiamo che le amministrazioni usino in maniera corretta gli strumenti principali definiti al piano triennale, gli strumenti di acquisto, che sono le gare strategiche. Le gare strategiche, come vi ho visto prima, sono proprio una cassetta agli attrezzi, chiamiamolo così, che sono a disposizione delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e le devono usare, sono fatte appositamente. Se vengono usate, prendete un mattello e le usate non per plantare i chiodi ma per sfidare una vita, evidentemente noi diciamo che lo sta usando male. Soprattutto verifichiamo che l'iniziativa che esaminiamo sia coerente e rispetti i principi in guida che sono definiti nel piano triennale. I principi in guida del piano triennale sono questa sorta di dieci comandamenti che il comandamento digitale ha dettato e noi raccomandiamo a tutte le pubbliche amministrazioni. Ogni volta che una pubblica amministrazione definisce, progetta e realizza un servizio digitale, si deve ricordare, uno, deve essere digitale e mobile come prima opzione, due, deve avere un accesso esclusivo mediante identità digitale, deve avere il cloud come prima opzione, deve essere inclusivo, deve essere accessibile, deve rispettare il fatto che il dato pubblico sia un bene comune, deve essere interoperabile già al momento del design, sicurezza e per avere sicuale, deve essere centrato sull'utente, deve essere come si dice data driven, cioè deve essere ovviamente quello che conta il dato, deve avere delle, usare delle metodologie agili, il principio famoso once only, l'amministrazione non deve chiedere al cittadino per accedere a un servizio informazioni che ha già, quindi una volta che l'utente, il cittadino o l'impresa ha dato un servizio, l'informazione basta, non ti permetti di chiedermela più, deve essere trasfrontaliero già al momento della progettazione, possibilmente deve essere open source, comunque il codice sorgente deve essere in disponibilità della amministrazione di interazione, questo anche per motivi di trasparenza, sicurezza e quant'altro. Qui c'è un sondaggio che vorrei fare partire, chiedo alla gentissima collega, perché questo è importante, vorrei capire chi tra voi conosce i principi di guida piadrennale, conosce voi certamente li avrete letti, ma se li avete mai applicati nei progetti CT in cui siete stati convolti. Quindi potete rispondere, o non li conosco affatto, questo sinceramente mi addolore per perdonatemi, potete rispondere, li conosco non li ho mai applicati, ci sta in realtà è una novità abbastanza recente, oppure li conosco e già ne tengo conto ovviamente quelli che sono applicabili ai vari progetti in cui sono convolto. E mi fa enormemente piacere che al momento la terza opzione vince. Lasciamo qualche altro secondo per vedere chi vota. 57%, maggioranza 56, 57, comunque maggioranza quasi qualificata, spiacciante di quelli che ne hanno già tenuti conto nei vari progetti. Molto bene, questo assolutamente lo ritengo positivo, anche rassicurante, è il nostro lavoro, quello di suggerire come rispettare i principi guida e dare informazioni perché questi principi guida vengano usati correttamente, vengono indirizzati anche in maniera semplice da amministrazioni senza mettere in difficoltà nelle loro iniziative. Direi che possiamo andare avanti, mi sembra ok. No, io in realtà qui ho finito, forse con un anticio di qualche minuto. Allora vi chiedo, a questo punto intanto prendete nota del mio indirizzo di posta elettronica nel caso appunto approfondimenti o quant'altro. Ora io vedo che qualcuno già ha messo qualche domanda, leggo per esempio, ne leggo una, solo consi per soggetti aggregatori, dice Francesco Lazzizera, possono richiedere anche altre amministrazioni. Allora i pareri della lettera F, cioè i pareri obbligatori ma non vincolanti, possono essere richiesti da tutte le pubbliche amministrazioni centrali dello Stato. I pareri vincolanti, cioè quelli della lettera G, possono essere richiesti da Consip e dai soggetti aggregatori. Quindi sono due fatti di specie diversi. I pareri che sono non vincolanti, cioè quello che diciamo l'amministrazione ne può tenere conto, ma può anche andare avanti senza. Qualunque amministrazione centrale dello Stato lo può richiedere. In realtà sono obbligatori se superano le norme d'importo, come ho detto prima, ma nulla osta talvolta lo facciamo che noi rendiamo pareri anche al di sotto della soglia. Viceversa, i valeri vincolanti sono solo per Consip e per i soggetti aggregatori, ma non per tutte le iniziative. Per le iniziative strategiche, quindi quella è definita il piano triennale come strategia. Allora, io non ho tempo ora, dovrei passare al collega, però io mi appunterò queste domande, anzi vi prego di farne altre, perché ci potranno servire anche per focalizzare meglio il secondo webinar che si verrà martedì prossimo e il terzo di questo ciclo. E vi raccomando, in maniera, lo so che rompiamo, però mi raccomando di seguire gli altri due webinar, perché questo ciclo, appunto i seminari, va visto nella sua interezza, è un unico, ma non può essere spezzato. Quindi vi assicuro che all'inizio della sessione di martedì prossimo la prima cosa che faremo è di selezionare ovviamente le domande più significative e rispondere. Io adesso vi ringrazio per l'attenzione, passerei la parola al collega Fabio Massimi. Salve, prima di introdurre Fabio Massimi, io direi, siccome siamo un po' in anticipo con i tempi, se Fabio va con la sua comunicazione, diciamo di 35 minuti, abbiamo sempre un po' di di tempo che possiamo riservare alla fine per rispondere alle domande che sono arrivate. Va bene? Assolutamente sì. Allora riserviamo gli ultimi minuti, e credo che sia anche un vantaggio tecnico, a rispondere alle domande. Va benissimo. Ok. Allora, la parola a Fabio Massimi, grazie. Buongiorno, buon pomeriggio, anzi. Allora, io sono Fabio Massimi e mi sono occupato di progetti di trasformazione digitale per molti anni, soprattutto nell'ambito della fatturazione elettronica e dell'e-procurement e da circa nove mesi, stavo facendo il conto, ho iniziato a lavorare nel servizio Pareri. Mi è stata data questa opportunità, quindi che ho colto con molto, diciamo, così, sono stato molto contento di iniziare questa nuova esperienza, soprattutto perché partendo da esperienze di esecuzione, è stato molto interessante alzare la vista e andare a vedere, partendo dalla pianificazione strategica fino al momento cardine dei progetti ECT, ovvero sia l'acquisizione dei beni e dei servizi, quali sono i punti su cui poter intervenire per far sì che il progetto abbia successo, perché, come ben sapete, non tutti i progetti di informatizzazione hanno successo, anzi, diciamo, la percentuale di successo è abbastanza, diciamo, è molto bassa in realtà. Per cui, come diceva sia Ludovico che Francesco, il servizio Pareri ha sviluppato negli anni un know-how importante sui contratti ECT per la pubblica amministrazione e quindi accedere a questo patrimonio e poter dare un contributo a far sì che le amministrazioni abbiano successo nei progetti di digitalizzazione, diciamo, per me è un punto di soddisfazione. Nella mia presentazione, nella prima parte, darò delle indicazioni di tipo operativo su come avviare il processo di richiesta del parere e quindi vi darò delle notizie di tipo procedurale. Dopodiché, nella seconda parte, affronteremo lo schema della relazione illustrativa che viene allegata dall'amministrazione richiedente alla richiesta di parere e che, secondo me, è un framework importante sia per le amministrazioni che chiedono il parere sia per le amministrazioni che semplicemente devono fare un acquisto ECT perché è uno schema che permette in modalità maglieutica di andare a stressare e a verificare le scelte che sono state fatte. Molto spesso vediamo che le amministrazioni, dopo facendo la richiesta di parere, si accorgono di magari di non aver centrato alcuni aspetti dell'acquisto e quindi modificano la documentazione di gara. Questa è molto importante, questo significa una delle utilità maggiori del parere è proprio andare a verificare le scelte. Infatti la domanda principale che l'amministrazione deve farsi quando chiede il parere è il perché, cioè motivare il perché delle scelte a partire dagli obiettivi, macro obiettivi strategici fino agli singoli aspetti della fornitura. Poi magari entreremo nel dettaglio. Allora ripartiamo dai pareri obbligatori non vincolanti, sarebbero quelli che sono normati dall'articolo 14 bis comma 2 lettera F che presentano delle soglie. Quindi le amministrazioni che avviano iniziative che hanno un importo superiore al milione di euro IVA incluso per le procedure negoziate e superiore ai 2 milioni di euro sempre IVA inclusa per le procedure aperte e ristrette sono obbligati per legge a chiedere parere. Quindi parere obbligatorio non vincolante, ovvero sia l'amministrazione che può non tenerne conto. Naturalmente qual è la razio? La razio è quella di comunque far sì che un ente terzo che è Agid dia un parere sull'iniziativa, sull'acquisto. Poi l'amministrazione può prendersi la responsabilità e i rischi di andare avanti anche contro l'indicazione di Agid. Però avere una voce terza con l'esperienza che abbiamo già detto prima che valuta la documentazione di gara e che va anche a verificare le motivazioni anche sia da quelle di livello più alto a quelle di livello più basso dell'iniziativa. Sicuramente è un valore molto importante per l'amministrazione e solitamente i pareri vengono accolti e anzi danno un contributo a livello di utilità molto alto per far sì che l'iniziativa sia efficace. La torta che vedete a destra indica semplicemente che anche per iniziative che non sono esclusivamente di servizi ACT occorre chiedere parere qualora la quota dei servizi ACT superi i valori di soia. Quindi molto spesso ci capitano anche delle iniziative miste in cui ci sono servizi ACT e altri servizi. Occorre andare a verificare qual è se l'importo totale dei servizi ACT superi in questo caso la soia. Naturalmente non ci sono soglie per i pareri obbligatori vincolanti o quelli regolati dalla lettera G per quelli che rientrano nelle gare strategiche. Quindi diciamo lì il parere solo perché la gara è strategica è sia obbligatorio che vincolante. In questa tabella vediamo quando è obbligatorio chiedere il parere ad Agit e quando no. Questa è una tabella che è estratta dalla circolare 2 2022 di Agit che va appunto a regolare i pareri. Non la leggerò ma passerò alla slide successiva dove affrontiamo magari un po' più nel dettaglio 8 di queste casistiche. Naturalmente come diceva Francesco prima se avete dubbi l'ufficio è a disposizione per rispondere sull'obbligatorietà o meno di una richiesta di parere. Quando iniziamo dai casi in cui non è obbligatorio chiedere il parere ad Agit? Naturalmente negli accordi quadro delle pubbliche amministrazioni centrali sui contratti esecutivi non è obbligatorio chiedere un parere. Questo perché? Perché naturalmente ci si è già pronunciati sull'accordo quadro quindi diciamo l'accordo esecutivo a meno che non ci sia un parere condizionato in cui proprio nel parere dell'accordo quadro viene richiesto di mandare a parere, di presentare a parere i contratti esecutivi non c'è obbligo di richiedere il parere. Stessa cosa per gli accordi quadro dei soggetti aggregatori quindi sugli accordi esecutivi non è obbligatorio chiedere parere ad Agit. Naturalmente stessa cosa per gli accordi esecutivi nell'ambito delle gare strategiche CONSIP perché come dicevo prima le gare strategiche sono già soggette al parere lettera G quindi hanno già subito tra virgolette a monte un parere dell'Agenzia per l'Italia Digitale e allo stesso modo le convenzioni CONSIP. Quindi questi sono quattro casi notevoli in cui non è obbligatorio chiedere il parere all'Agenzia per l'Italia Digitale. Altri casi notevoli gli acquisti MEPA cioè sugli strumenti di negoziazione di CONSIP quindi MEPA e SDAFA in questo caso invece si applicano le regole standard ovvero sia se l'importo dell'iniziativa supera la soglia minima occorre richiedere il parere. Stessa cosa per proroghi, atti aggiuntivi e atti aggiuntivi, poi su questo punto magari ci rientriamo nella parte di esame della relazione illustrativa. Anche in questo caso il parere non si estende alle proroghe, agli atti aggiuntivi e alle riedizioni. Occorre richiedere un nuovo parere sempre se l'importo supera le soie. Questo perché? Perché naturalmente in caso di proroghe, atti aggiuntivi naturalmente le condizioni possono cambiare così come la fornitura. Quindi di fatto si tratta di un nuovo acquisto a tutti gli effetti anche se va in continuità con l'acquisto precedente. Quindi in ogni caso si applicano le soie previste per i pareri obbligatori non vincolanti. Poi abbiamo due casistiche che riguardano il PNRR. Per il PNRR il legislatore con l'obiettivo di andare a semplificare le procedure di acquisto ha modificato i vincoli riguardanti le richieste di parere, in particolare per le procedure strategiche. Quindi facciamo sempre riferimento al DL77 del 2021 e ai successivi decreti PNRR. Quindi i pareri di lettera G, quelli vincolanti, sono resi dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio. In generale viene indicata la struttura che si occupa di trasformazione digitale e di innovazione della Presidenza del Consiglio sentita agita. Quindi il parere viene rilasciato di fatto da parte del DTD. In questo caso naturalmente le due norme che riguardano il PNRR hanno un'applicazione a volte non sempre rigida, tanto che molto spesso di fatto, anche se non dovuto, noi partecipiamo attivamente se non siamo i primi settori nella redazione e nell'elaborazione del parere. Infine, ultima novità sempre per quanto riguarda il PNRR, ovvero sia i pareri lettera F, quelli obbligatori non vincolanti, la norma che è stata prevista dall'ultimo decreto PNRR 3 dice che la richiesta di parere non si applica alle procedure PNRR, quelle che rientrerebbero nella lettera F. Anche qua però abbiamo messo lo stellone, ultima novità perché attendiamo anche noi un po' di giurisprudenza per capire quali sono effettivamente le casistiche perché la normativa è veramente stratificata e quindi in ogni caso su procedure che comunque sono strategiche perché fanno parte del PNRR, il nostro approccio è molto lasco, ovvero sia i pareri se i richiesti motivati vengono rilasciati. Non so perché ho visto, c'è uno stop nelle slide, non so se l'avete notato anche voi. Allora, prima di entrare negli aspetti procedurali di tipo più stringente, vorremmo che rispondeste a un sondaggio. Allora, il sondaggio è secondo voi in quale momento dell'iniziativa dovete chiedere il parere di congruità tecnico-economica di Agid? E ci sono, qui vengono presentate due possibili risposte in caso di procedura negoziata prima della stipula del contratto o dopo la stipula del contratto, in caso di procedura aperta, prima della pubblicazione del bando o appena dopo la pubblicazione del bando. Non so se i sondaggi sono partiti, io non li vedo. Eccoli qua. Bene, vedo che nel primo caso, prima della stipula del contratto, benissimo, 99%. Nel caso invece di procedura aperta, qualche incertezza in più, però direi allo stesso modo che la maggior parte di voi è convinta che vada richiesto prima della stipula del contratto. Benissimo, allora questo era semplicemente un tentativo di vedere se a quest'ora siete ancora attenti, perché le risposte erano abbastanza ovvie. Grazie quindi del sondaggio, andiamo avanti. Ecco qua le nostre clessidre. Allora, naturalmente l'obiettivo del parere è quello di fornire indicazioni per rendere le iniziative di acquisto più efficaci e meno rischiose, coerenti con la strategia generale e efficienti in termini di ritorno dell'investimento. Quindi questo è quello che hanno detto sia Ludovico che Francesco. Quindi è logico che occorre che la richiesta di parere avvenga quando i documenti di gara e gli schemi di contratto sono ancora aperti a modifiche. Molto spesso il parere porta alla modifica dei documenti di gara, perché il passaggio attraverso l'istruttoria dei pareri Agid mettono in evidenza alcune mancanze o semplicemente magari scelte che possono essere migliorate in qualche modo. L'obiettivo è far sì che l'acquisto sia un acquisto di qualità e di successo. Agid di fatto fa lo stress test all'amministrazione per fare in modo che questi documenti di gara e lo schema di contratto siano solidi. Quindi come Francesco diceva prima, i giornali sono pieni di casi di procedure anche rilevanti che subiscono ricorsi e quindi conseguenti ritardi nell'esecuzione e quindi è fondamentale che l'acquisto parta con il piede giusto. Quindi vedete poi nello schema che commenteremo della relazione illustrativa viene di fatto testato tutto il ciclo di vita dell'acquisto per fare in modo che l'amministrazione abbia il polso della situazione e abbia gli strumenti per poter intervenire e condurre effettivamente l'acquisto perché ci sono moltissimi casi in cui l'amministrazione, parliamo di amministrazione, ma stazioni appaltanti, soggetti agricatori, centrali di committenza, soggetti che fanno l'acquisto poi hanno difficoltà a gestire la fornitura. Quindi ultima clessidra, si raccomanda all'amministrazione di richiedere il parere entro la stipula dei contratti nel caso di procedure negoziate, la pubblicazione del bando in caso di procedure aperta o l'invio delle lettere d'invito nel caso di procedure ristretta. Quindi diciamo la consecuzio temporum è abbastanza semplice. Vediamo la timeline dei pareri Agid. Allora qui abbiamo cercato di utilizzare un codice di colori per far capire qual è l'interazione. In blu vedete le attività che sono in carico e gli eventi che sono in carico alle amministrazioni richiedenti, in rosso i flussi informativi o le attività che sono o in carico ad Agid o che sono in collaborazione tra l'amministrazione Agid. Quindi naturalmente il servizio pareri è disponibile per un'interazione preventiva nel momento, nella fase di definizione dell'iniziativa, quindi molto spesso noi veniamo interpellati prima della richiesta di parere e questa secondo noi è una buona prassi perché sicuramente un parere che è stato, una richiesta di parere su cui di fatto Agid ha già dato delle indicazioni agevola sicuramente l'iter dell'istruttoria. Poi c'è il momento della richiesta di parere che viene inviata ad Agid, Agid avvia l'istruttoria, in base al CAD il parere deve essere reso entro 45 giorni, quindi abbiamo 45 giorni per completare l'istruttoria. Durante l'istruttoria naturalmente c'è un'interazione che può essere più o meno lieve con l'amministrazione richiedente, naturalmente se c'è interazione preventiva questa interazione è già ad un punto avanzato, già ci conosciamo, quindi diventa molto più semplice. Infine abbiamo l'emissione del parere entro i 45 giorni dalla richiesta. Da quel momento in poi l'amministrazione può provvedere a finalizzare l'iniziativa, quindi se serve fare una revisione della documentazione di gara e a far partire la procedura d'acquisto vera e propria, quindi la pubblicazione del bando il momento diciamo della pubblicazione del bando, l'invio delle lettere d'invito, la firma del contratto e la firma del contratto, quindi a questo punto l'iniziativa è ad un livello di maturità tale per cui l'amministrazione può procedere alla selezione del fornitore o alla firma del contratto. Vediamo dei casi in cui c'è magari un'interlocuzione di livello superiore tra l'amministrazione ed Agid, ad esempio può succedere che la documentazione sia carente o incompleta, in questo caso viene una richiesta di chiarimenti, l'istruttoria viene sospesa, i casi di sospensione dell'istruttoria sono regolati nella circolare 2 2022, quindi sono dettagliati all'interno della circolare, cosa vuol dire? Che se l'Agid non è in grado di completare l'istruttoria perché ci sono delle lacune evidenti, l'istruttoria viene sospesa, si avvia l'interlocuzione per ottenere degli chiarimenti e una volta che i chiarimenti sono stati inviati dall'amministrazione all'agenzia, si riavvia l'istruttoria e Agid a 15 giorni per l'emissione del parere. Questo in caso di documentazione carente o incompleta, quindi in cui le carenze in realtà sono facilmente recuperabili e colmabili. Ci sono dei casi magari un po' più eclatanti in cui magari l'amministrazione o su richiesta di Agid o di propria iniziativa presenta una nuova documentazione, allora a questo punto quando c'è una nuova documentazione di fatto l'istruttoria viene riavviata, ciò vuol dire che partono nuovamente i 45 giorni previsti dal CAD per l'emissione del parere. Naturalmente ritornando alla slide iniziale, l'interazione con Agid preventiva alla richiesta di parere fa sì che queste due ultime casistiche che ho presentato non avvengano, nel senso che se la richiesta di parere avviene in un momento, in una fase già matura in cui l'interlocuzione con l'agenzia è già avvenuta, difficilmente si va in corso una sospensione. Il parere viene rilasciato con una procedura che chiamiamo liscia, smooth e naturalmente ci sono i tempi tecnici di rilascio del parere perché anche noi abbiamo delle procedure interne per cui il parere di fatto è una determinazione del direttore generale, quindi nei 45 giorni c'è l'istruttoria e anche l'approvazione e tra cui il momento della firma della determinazione da parte del nostro direttore. Parere sospensivo, il caso peggiore, oltre al parere negativo che citava prima Francesco il parere negativo, adesso non l'ho nemmeno presentato. Naturalmente può avvenire un parere negativo qualora l'iniziativa viene bocciata, ma un caso intermedio è l'emissione di un parere sospensivo, ovvero quando l'interazione tra l'amministrazione richiedente e l'Agid non porta chiarimenti a una nuova documentazione, quindi c'è un momento in cui di Stasi e Agid in questo caso, raramente ma qualche volta è successo, ha posto fine a questa Stasi con un'emissione di parere sospensivo. A quel punto l'amministrazione deve ricominciare la procedura di richiesta di parere per una seconda volta. Come chiedere il parere? La richiesta di parere al momento avviene con una richiesta via PEC attraverso il protocollo. Queste sono indicazioni tecniche molto banali, però vi preghiamo di indicare nell'oggetto qual è il tipo di parere che state richiedendo, quindi se è una lettera F o una lettera G e indicazioni, anche questa banale, i documenti devono essere trasmessi in formato editabile perché questo agevola la nostra istruttoria, evitare di inviare scansioni di documenti cartacei e naturalmente, come dicevo prima, l'incompletezza della documentazione non consente all'agenzia di procedere con l'istruttoria e quindi provoca di fatto una sospensione dell'istruttoria con poi i flussi di processo che abbiamo appena visto. I documenti da allegare alla richiesta di parere. Vedete che a secondo della procedura, quindi procedura negoziata, procedura aperta, procedura ristretta, la richiesta di parere deve essere corredata della documentazione di gara, quindi non sto qui a ripetere la documentazione che ben conoscete, quindi nel caso di procedura negoziata, il capitolato tecnico, se presente, l'offerta del fornitore, lo schema di contratto, piuttosto che per una procedura aperta, lo schema di contratto, il capitolato tecnico e l'altra documentazione di gara che può essere il disciplinare, che è il disciplinare, il band, lo schema di offerta tecnica, lo schema di offerta economica, ma vedete che in tutti e tre i casi la prima riga presenta la relazione illustrativa. La relazione illustrativa è il documento su cui ci soffermeremo nelle slide successive che di fatto agevola e guida l'Agid nella emissione del parere. È il documento in cui l'amministrazione va a spiegare le motivazioni delle scelte che ha fatto e che sono sintetizzate all'interno della documentazione di gara. Poi adesso fra poco vedremo come deve essere fatta questa relazione illustrativa che non è di fatto un copia in colla della documentazione di gara, ma deve dare un valore raggiunto e anzi come se fosse un endorsement scritto alla documentazione di gara. Cioè l'amministrazione deve essere proprio convinta di quello che sta acquistando e delle modalità che ha scelto per acquistare. Eccola qua, i due elementi fondamentali della richiesta di parere, la relazione illustrativa e il referente tecnico. Quindi la relazione illustrativa è il documento in cui l'amministrazione riepiloga gli elementi principali dell'iniziativa su cui chiede parere, motivando le decisioni prese. Quindi è un documento, una lettera di presentazione in cui si danno delle motivazioni. Non è il copia in colla, quindi questo lo vedrete ripetuto più volte. Non vogliamo che ci siano dei copia in colla della documentazione di gara. Molto spesso anche noi ci ritroviamo nella relazione illustrativa pezzi di capitolato piuttosto che di disciplinare di gara. Non duplicate le informazioni anche perché poi una delle altre controindicazioni è di non duplicare le informazioni e che poi si commettono errori. Quindi magari nella relazione illustrativa ci troviamo una tabella e nel capitolato una tabella differente. Quindi non è un copia in colla, eventualmente è consigliato e suggerito fare riferimento alla documentazione di gara. Quindi quando nella relazione illustrativa si spiegano le motivazioni delle varie scelte si fa riferimento alla documentazione di gara. Quindi questo aiuta a non commettere errori e facilita noi nell'istruttore, facilita anche l'amministrazione perché l'amministrazione deve scrivere un documento più compatto. Ecco quello che vorremmo riguardo alla relazione illustrativa che sia un documento molto compatto in cui la verbosità non aiuta, mettiamola così, molto spesso dobbiamo fare un grosso lavoro per andare a estrarre le informazioni dalla relazione illustrativa. Quindi molto meglio andare con elenco puntato oppure con tabella e dare le informazioni in senso stretto, in un formato molto stringato e compatto. Diciamo questa poi magari è una delle mie prime impressioni venendo io poi dal mondo dei dati, cioè vedo tutto sotto forma di dato, quindi anche la relazione illustrativa per me dovrebbe trasformarsi in una sorta di schema dati, quindi molto stringata con dei tag in modo tale che chi legge capisce immediatamente qual è il senso, la semantica di quello che sta leggendo. Invece molto spesso un po' l'approccio è quello della tesina scolastica, si cerca ad arrivare a 20 pagine facendo il copia e incolla della documentazione di gara. Ecco questo è un approccio che poi non facilita il nostro lavoro e soprattutto non dà nessun valore aggiunto all'amministrazione. Lo schema della relazione modulare vuol dire che ci sono dei moduli che devono essere, delle sezioni che devono essere popolate, ma se delle sezioni non si applicano all'iniziativa su cui si chiede parere, queste sezioni possono essere tranquillamente saltate. Il referente tecnico è il fortunato che durante, nel pergiore dei casi, durante i 45 giorni o se c'è interazione preventiva forse ancora qualche giorno in più, deve essere l'interfaccia tra l'amministrazione e l'Agenzia per l'Italia Digitale. Allora, è uscito dalla riunione? No, tutto a posto, è solo un partecipante che è uscito dalla riunione. Ah, ok, vedevo un messaggio, siccome dava del lei pensavo che dicesse a me. Ok, quindi è il referente dovrà rendersi disponibile a fornire chiarimenti, questo mi sembra ovvio per tutta la durata dell'istruttoria e naturalmente vanno indicati i riferimenti del referente, quindi nella famosa richiesta via PEC, quello che vi chiediamo, mettete nome e cognome del referente, del RUP, della persona incaricata con telefono e email in modo tale che possa essere contattata agevolmente, free, fin dall'arrivo della richiesta di parere. Questo è lo schema della relazione illustrativa. Come vedete, poi dettaglieremo i vari sottoparagrafi, però le sei sezioni principali sono contesto dell'iniziativa, quindi andremo a vedere l'iniziativa dove è calata e qual è lo stato dell'amministrazione, si approfondisce anche l'esis dell'amministrazione, cioè qual è la situazione da cui l'amministrazione parte. La finalità dell'iniziativa, qui c'è un punto importante che è quello degli obiettivi, perché molto spesso chiarire gli obiettivi fa sì che anche l'acquisto e l'iniziativa sia molto più chiara, quindi avere chiari obiettivi, avere chiaro perché si sta facendo un determinato progetto, un determinato acquisto, è di notevole aiuto. Molto spesso, anche qua vediamo capitolare le relazioni illustrative in cui gli obiettivi non sono ben specificati, quindi magari poche parole chiare in cui viene detta qual è l'esigenza. Il punto su cui è focalizzato di fatto la valutazione di congruità tecnica dell'iniziativa, che è uno degli elementi fondamentali del parere, ovvero la descrizione tecnica dell'iniziativa da cui non si può naturalmente ovviare, ovvero ossia descrivere con proprietà l'oggetto della fornitura e il criterio di scelta delle soluzioni, anche qui poi andremo un po' in drill down perché questi sono aspetti importanti. Altro aspetto importante, sezione molto importante, è quello che riguarda il dimensionamento e i corrispettivi unitari, perché naturalmente quando noi compriamo, andiamo a comprare servizi ICT, quindi per quanto riguarda i beni magari è anche semplice il dimensionamento, dobbiamo comprare X macchine, X licenze, ma per i servizi diventa un po' più complicato, quindi andare a capire quanto pesa il nostro acquisto, qual è la dimensione dell'applicazione dell'oggetto software che dobbiamo realizzare e soprattutto magari se facciamo un progetto di evoluzione, capire qual è la dimensione del software che io ho dentro casa e capire di quanto lo ingrandisco, facendo una metafora edilizia, ovvero se noi abbiamo un palazzo e dobbiamo aggiungere un garage oppure dobbiamo mettere un piano in più. La metafora è quella, ma con il software è molto più complesso, quindi vediamo che quello è uno degli aspetti su cui ci soffermiamo molto con le amministrazioni. Poi sulla modalità di esecuzione, anche qua non abbiamo la pretesa di dare delle indicazioni prettamente legali, però è importante poi qual è la normativa a supporto per l'acquisizione e soprattutto capire quali sono i criteri di aggiudicazione. Infine la sezione 6, verifica dei risultati dell'iniziativa, quindi come l'amministrazione ha pensato il framework di collaudi e verifiche e quali sono le attività di moneditoraggio che sono previste nel contratto. Sono andato molto veloce sullo schema perché poi andremo in dettaglio nelle sezioni principali. Prospetto informativo sintetico, questo è l'intestazione della relazione illustrativa, qui viene specificato il richiedente, la durata del contratto, l'importo contrattuale e la modalità di scelta del contraente, come se fosse la carta d'identità della nostra iniziativa d'acquisto. Contesto dell'iniziativa. Allora, volevo un attimo capire quanto tempo ho a disposizione e in modo da tarare poi questa parte. Sul contesto normativo e regolatorio, naturalmente l'iniziativa ha come supporto normativo le norme che regolano i compiti istituzionali dell'ente, quindi questo va chiarito nella prima parte della nostra relazione illustrativa. Ad esempio, se l'acquisto viene fatto per un determinato compito istituzionale dell'ente, va specificato, naturalmente ho fatto l'esempio Ministero degli E interni per la CIE, quindi la norma dà dei compiti specifici al Ministero degli interni, per cui un acquisto che riguarda la CIE è motivato dalla normativa vigente. Ci sono poi norme e regolamenti che regolano l'adozione di tecnologie digitali, come ad esempio il CAD e le linee guida collegate al CAD, ad esempio le linee guida riguardo alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, naturalmente l'acquisto di servizi di gestione documentale sono in qualche modo supportati dal CAD e dalle linee guida Agit. Quindi questo è il contesto normativo e regolatorio entro il quale l'amministrazione che sta facendo l'acquisto si sta muovendo. Naturalmente vanno specificate anche le norme che definiscono particolari modalità di acquisizione, come abbiamo detto prima, ad esempio molte amministrazioni hanno una norma che prevede, oltre il MEF, altre amministrazioni hanno una norma che prevede che possano avvalersi di soggei. Allora questa è una norma che va citata, nel contesto normativo forse è anche in modo più appropriato quando si descrive la modalità di acquisizione. Contesto organizzativo, questo è uno degli elementi che consente di andare a dimensionare l'iniziativa, ovvero sia molto spesso l'amministrazione non va a descrivere qual è il contesto organizzativo in cui il servizio viene calato. Quindi se l'amministrazione sta realizzando una procedura che è una procedura che magari viene gestita da, la procedura coinvolge sia uffici centrali che uffici periferiche o periferici, va indicato quali sono le strutture periferiche coinvolte, quante sono, se ci sono complessità tecnologiche dovuto al fatto che la procedura è gestita dal personale che è in strutture organizzative periferiche. Allo stesso modo andare a quantificare quanti sono gli utenti, cioè sia gli utenti interni, i funzionari che poi si occupano della, del, lavorano sulla procedura o di utenti esterni, ovvero sia imprese o cittadini che accedono alla procedura. Io ho fatto due esempi che riguardano, riguardano un parere che abbiamo rilasciato di recente, quindi per quanto riguarda il MITE che sta facendo un progetto per il sistema centralizzato per i procedimenti degli enti parco, è logico che un sistema di questo tipo va a impattare sui singoli enti parchi che sono distribuiti nel territorio, quindi da questo punto di vista è importante chiarire, magari anche con tabelle, molto semplicemente mettere delle tabelle in cui vengono indicate quali sono le strutture organizzative oppure per determinate procedure, che numeri hanno queste procedure, che numeri e che tempi per l'evasione hanno, partendo da dati storici, ad esempio alcune procedure possono essere, diciamo avere dei numeri di migliaia, centinaia, comunque è importante per poi andare a dimensionare il progetto che l'amministrazione sta portando avanti. Contesto tecnico e progettuale, quindi questo è l'ambiente tecnologico, il contesto tecnologico in cui l'amministrazione sta lavorando e su cui si impianta l'iniziativa di acquisto, quindi ad esempio è importante andare a descrivere le SIS, qui c'è il caso le SIS dell'infrastruttura, hardware e software, che è in possesso dell'amministrazione e su cui l'iniziativa si innesta, ad esempio in una migrazione verso il cloud è importante capire qual è l'infrastruttura di partenza e qual è l'infrastruttura di destinazione, quindi questi sono elementi che servono a noi, all'agenzia, per andare a valutare l'efficacia dal punto di vista tecnico dell'iniziativa. Naturalmente è importante segnalare l'utilizzo di open source o di soluzioni in riuso, poi vedremo in un passaggio successivo che l'amministrazione nella valutazione delle soluzioni tecnologiche che deve acquisire deve dare una, deve in qualche modo dare priorità al utilizzo di software open source e di soluzioni in riuso, questo a favore per evitare poi situazioni di lock-in in cui l'amministrazione sia poi costretta a essere legata a una soluzione senza potersi svincolare, e naturalmente è importante descrizione, diciamo qui abbiamo messo tre esempi, la descrizione degli applicativi oggetto dell'iniziativa, quindi magari se abbiamo una soluzione applicativa andare a descrivere qual è lo stack tecnologico su cui questa applicazione, con cui questa applicazione è costruita e andare a capire per i singoli componenti quali sono componenti proprietari e quali sono componenti open source, sempre per andare a evitare una situazione di lock-in. contesto per completare il contesto dell'iniziativa è importante naturalmente andare a indicare quali sono i pareri collegati, quindi nel caso di una riedizione è importante andare a citare i pareri che l'agenzia ha già reso all'amministrazione sulle acquisizioni precedenti, questo è importante perché l'amministrazione in questo caso deve andare a spiegare quali indicazioni dei precedenti pareri sono state recepite e quali non sono state recepite e nel caso che non siano state recepite qual è la motivazione, quindi molto spesso capita che l'amministrazione viene da chiedere un secondo, un terzo parere su un progetto che di fatto dura molti anni con rilievi che vengono ripetuti diciamo questo è uno dei casi particolari riguardo per esempio il dimensionamento della fornitura soprattutto l'utilizzo nel caso di sviluppo software, molte amministrazioni hanno difficoltà a utilizzare metriche di prodotto, poi sul tema magari possiamo entrare nel dettaglio più in avanti quindi andare a spiegare per quali motivo alcune indicazioni di agite non sono state recepite e naturalmente una indicazione importante è andare a specificare se il parere è il frutto di un'attività già svolta con l'agenzia perché in questo caso ciò vuol dire che molti dei temi sono stati già affrontati magari l'amministrazione non ha avuto a che fare direttamente con l'ufficio pareri ma con altre funzioni di Agit perché sapete i progetti, comunque Agit segue progetti su molte direttive sono diversi progetti quindi può capitare che venga a parere una iniziativa che riguarda un progetto su cui Agit è direttamente coinvolta quindi anche in questo caso avere un'indicazione dell'attività che è già stata fatta con Agit è molto utile ad accelerare l'istruttoria di rilascio del parere naturalmente i risultati di precedente attività di valutazione e di monitoraggio quindi se l'iniziativa fa parte di un progetto più ampio occorre indicare lo stato del progetto se ho un progetto diciamo molto strategico magari di trasformazione digitale di tutte le procedure è importante andare a descrivere qual è l'andamento del progetto generale anche se io sto facendo un'acquisizione di servizi per un aspetto specifico di questo macro progetto naturalmente è importante sempre nel caso di provare e riedizione fornire un giudizio sintetico sui risultati del precedente contratto ecco qua anche qui se io ho svolto un'attività faccio adesso un esempio per esempio io ho sviluppato un servizio e nell'ambito dell'edizione precedente del mio contratto ad esempio non sono arrivato a collaudo perché ci sono stati problemi cioè io questo lo devo segnalare l'amministrazione deve segnalare se magari si sta in qualche modo ripetendo un acquisto motivando per quale motivo si sta ripetendo questo acquisto magari i requisiti non erano stati analizzati in modo appropriato nella prima edizione è comunque un fattore che va messo in evidenza naturalmente se si hanno rapporti di monitoraggio questi vanno allegati alla richiesta di parere finalità dell'iniziativa quindi obiettivi naturalmente gli obiettivi strategici dell'iniziativa devono essere correnti con il piano triennale da questo punto di vista è molto semplice andare a vedere quali sono gli obiettivi e questa è una delle prime verifiche che facciamo noi quando ci arriva la richiesta di parere quindi andare a vedere se l'amministrazione è all'interno di un contesto già regolato dal piano triennale sia che siano le indicazioni strategiche di alto livello sia che siano indicazioni specifiche date all'amministrazione perché sapete che oltre ai principi generali del piano triennale il piano triennale descrive tutta una serie di obiettivi che possono essere specifici della singola amministrazione naturalmente è molto importante descrivere i risultati attesi allora questa attività che sembra effettivamente dice stiamo facendo veramente una tesina di tipo scolastico ma molto spesso andare a scrivere per punti i risultati attesi così come gli indicatori risultati e i target sono a livello di dimensione del testo un contributo molto limitato alla relazione illustrativa però chiariscono molto gli obiettivi dell'amministrazione quindi capire quali sono i miei risultati attesi mi aspetto una semplificazione delle procedure mi aspetto un minor ricorso da parte dei cittadini e delle imprese ai servizi di help desk di service desk dell'amministrazione mi aspetto un abbattimento dei tempi nel completamento della procedura quindi capire qual è il risultato che io mi aspetto e naturalmente questo risultato deve essere in qualche modo misurato quindi io devo andare a mettere degli indicatori quindi è importante mettere degli indicatori semplici che comunque vadano a misurare i risultati attesi quindi poi andremo a misurare effettivamente quante procedure sono state evase nell'anno scorso e magari nell'anno successivo dopo che è entrato in produzione nel nuovo sistema informatico questo ci dà in qualche modo scusa Fabio solo per avvisarti che manca un minuto al termine manca un minuto al termine benissimo allora diciamo avevamo già previsto con Francesco diciamo questo il fatto che sarei andato lungo quindi io magari commento questa slide della prossima e poi la continuazione la possiamo rimandare al prossimo webinar di fatto diciamo la trattazione della relazione illustrativa poi è molto estesa quindi in questo modo potremmo dare anche maggiori esempi esempi pratici quindi l'importante è dare indicatori di risultato e definire dei target allo stesso modo se parliamo sempre di tempo di evasione della procedura andiamo a definire dei target ad esempio passare da 10 giorni a 3 può essere un target oppure il numero di interventi del service desk dell'amministrazione che magari da 100 al giorno possono passare a 20 questi sono sia degli indicatori molto semplici e efficaci sia dei target che devono essere definiti all'inizio del progetto e poi verificati volta per volta analisi dei costi e benefici in questo caso io mi ricordo all'inizio diciamo della mia esperienza con la pubblica amministrazione quando il CNIPA puntava molto faceva molta formazione sullo studio di fattibilità sono stati fatti diversi documenti e linee guida sullo studio di fattibilità adesso diciamo in ottica agile molto spesso lo studio di fattibilità viene saltato allora naturalmente la valutazione dei costi e benefici è uno degli aspetti che fanno parte dello studio di fattibilità ora fare lo studio di fattibilità può sembrare una perdita di tempo ma in realtà chiarisce molto gli obiettivi e la conoscenza dell'amministrazione sull'acquisto che sta facendo e quindi è quasi diciamo è un'equazione molto semplice dire che fare un buono studio di fattibilità agevola il progetto e consente di avere molto molti meno problemi nella fase successiva quindi anche in questo caso nella relazione illustrativa nel caso sia stato fatto un'analisi o l'analisi dei costi benefici o lo studio di fattibilità queste devono essere allegate termino solo con questa slide poi diciamo i punti successivi li rimandiamo ai prossimi appuntamenti è fondamentale quando si va a acquisire e acquistare ICT avere un occhio alla sicurezza cibernetica dell'amministrazione naturalmente sappiamo che ci sono diverse norme e questo contesto in questo momento è fortemente regolato cioè è fortemente attenzionato quindi anche in questo caso il piano triennale ad esempio dà delle indicazioni se voi andate a vedere il capitolo 6 vedete quali sono i framework che vengono indicati come riferimento quindi l'approccio da seguire nella relazione illustrativa è dire io conosco questi framework di riferimento ho letto il piano triennale so che devono essere eseguite le linee guida sulla sicurezza del procuratore ICT ad esempio oppure nel caso dei servizi cloud so che esiste il regolamento per il cloud della pubblica amministrazione che è stato emanato da Agita esistono degli atti regolatori di secondo livello che sono stati emanati dall'ACN allora io devo andare a motivare l'amministrazione deve motivare come sono stati adottati questi framework di riferimento o nel caso che non siano stati adottati motivare perché non sono stati adottati quindi questo è uno stress test molto importante perché l'amministrazione facendo questa attività riesce a capire se ha centrato l'iniziativa, l'acquisto oppure è fuori centro rispetto agli obiettivi specifici riguardo alla sicurezza ICT definiti dall'agenzia, definiti naturalmente dal governo naturalmente anche in questo caso evitare il copia e incolla perché quello che ci interessano sono le motivazioni che hanno spinto l'amministrazione a inserire determinate clausole o determinate indicazioni tecniche all'interno dei documenti di gara allora io direi di sospendere in questo diciamo su questa slide e poi ti mandiamo il proseguimento al prossimo webinar allora grazie mille siamo andati un po' lunghi con Fabio Massimi ci prenderemo uno spazio all'inizio del prossimo webinar martedì prossimo per rispondere alle vostre domande che sono arrivate in chat le spedisco ad Agid e poi ci organizziamo nel programma con un tempo magari a inizio webinar per iniziare proprio dalle domande che avete fatto vi ricordo sempre che l'appuntamento prossimo per il 21 marzo dalle 14.30 alle 16 e il tema sarà i contratti e gli accordi quadro ICT delle PA centrali i relatori saranno sempre Fabio Massimi e Francesco Grasso che ringrazio preceduti da Ludovico Anniballi quindi io vi do appuntamento a martedì prossimo e vi ricordo sempre che vi dovete iscrivere dalla pagina di eventi PA in cui è riportato appunto l'evento grazie a tutti e buona serata grazie a tutti